Musica Vai 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 Ciao a tutti Buon sud a tutti Stai rimando, mi stavo soffocando Cioè ragazzi, che avete fatto da novembre a maggio? Quello Fortis lì non l'ho visto io Come dite? Scarponi! 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 Piero Scarponi è uno dei tuoi protagonisti più attesimi del Giro del 2011 Ma stai riprendendo? Sì Ho capito ora che c'è stato Ciao Ciao Come te encuentras? Come te encuentras a voi? Come te encuentras? Allora facciamola fuori dai Ma facciamola col caffè, è più simpatica No, non vuoi? Bagno fuori Siamo con Chaco e Machado E da me? Questo giro è un po' sfigato L'anno scorso ha dato un grande spettacolo Sì, l'anno scorso però purtroppo faccio gli scongiuri perché sono andato a terra Ok, puoi partire Ah, un'intervista proprio? Eh sì Allora Dimmi quando ho messo Vai Che ti devo dire? Scusa ma Ciafetà Lei è responsabile del cambio ruolo Vai Vai E domani penso che i grandi aprono finalmente i rubinetti Vai Vai Per il luogo puoi spezzare l'enna Buona Buona Ciao Com'è? Com'è? I tu riscattisti veloci Com'è? Com'è? Se avrebbe vinto se avrebbe stato avuto il mondo migliore Com'è? Com'è? Mi sullette è nata Com'è? Mi sullette è nata Giannisario, team manager, gran patron dell'Androni CP Oggi si sale in maniera seria Una precisazione Il patron, Mario Androni Grazie per il patron Il team manager, vabbè Il team manager, no bene però il patron Questa fuga Ci hai creduto? L'hai portata avanti? No, io non l'ho portata dire No, ci hai creduto? Che poteva? La pariginizza ti abbiamo visto nelle insolite vesti di meccanico sotto a un sorgone Stare controllando la coppa dell'olio un giorno E comunque sarebbero, sarebbe sì Da percorrere delle... Gabbiano Sì, doveva stare più attenti Una precisazione Se avrebbe vinto, sarebbe stato davvero un modo migliore C'è anche Damiano Caruso Che però dovrà lavorare per me Paglissi Sì, è stato il primo protagonista Non è vero a cambiarla questa Che sei? Che sei? Diamola Hai dimostrato di... Aspetta, aspetta, aspetta Scusa Comunque per quanto riguarda... Auro, sono con Agnoli Lamentare il successo Avrebbero piacere il gas Vediamo... Vediamo etapa per etapa Come andare Va bene, grazie, ciao Un annuncio dedicato al ciclo web Bene, gentili signori e signori Buongiorno Continuate a seguire ciclo web www.cicloweb.it Il sito del grande ciclismo Vediamo Grande Stefano Ciao, grazie ragazzi Scusate Figurati Grazie